Un epilogo più amaro di così, non ci poteva essere per questa giornata iniziata alcune settimane fa. Il calcio è meglio di me che dà di questi episodi, di questi momenti. Ci siamo trovati sul 2-1, magari senza meritarlo, perché comunque una partita era abbastanza equilibrata, per cui sul Tirolo è una squadra che può metterti in difficoltà fuori casa, però ci siamo trovati in vantaggio, abbiamo rischiato anche di fare il 3-1 e in un momento in cui perlomeno la sensazione che si aveva era quella che la squadra potesse reggere il risultato, non ho capito in pochi minuti, non mi sono neanche accorto, eravamo 3-2 per gli altri. Per cui chi è nel calcio sa che possono succedere queste cose, però ci capita in un momento delicato dove era meglio che non avvenisse, però nel calcio, come nella vita, come in tutto, bisogna sapere prendere le mazzate e sapere che ci sono momenti dove c'è da stringere i denti e questo senza dubbio lo è, perché adesso mancano 7 partite alla fine, siamo in piena lotta, come lo siamo andati all'inizio, però soprattutto c'è che questo boccone amaro di oggi, dobbiamo dimenticarcelo veloce, perché tanto è inutile stare a demoralizzarci troppo, perché ne avremmo poi da risentirne sulle prossime partite e non ce lo possiamo permettere se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Mi spiace per i ragazzi, perché comunque erano molto concentrati, erano riusciti ad andare in vantaggio, quindi vincendo questa partita sicuramente per noi sarebbero stati tre punti importanti, addirittura ci troviamo con zero punti. Dobbiamo essere capaci di tenere compatto l'ambiente, di stare concentrati sul nostro obiettivo, e dobbiamo anche avere la capacità di riuscire a reagire quando becchi dei colpi da K.O. come quello di oggi. Una partita aveva avuto una premessa altrettanto negativa, quella dell'inagibilità del lungovisenzio, che Agliana non ha portato per nulla bene. Se vincevamo, potevamo fare i tre punti lo stesso quanto pare oggi, perché in questo sport la controprova non l'hai mai di nulla. E' anche questo discorso dello stadio, è inutile che continuiamo a rivangare, è un problema grosso, però che dobbiamo fare? Ritirarci al campionato? Noi abbiamo un obiettivo che è quello di salvarci, in qualunque situazione ambientale lo dobbiamo affrontare, dobbiamo essere capaci di farlo, lo dobbiamo fare in qualunque modo. Sicuramente il secondo anno di fila, l'anno scorso nella finale con la Carrarese ci siamo trovati a giocarci la promozione con zero tifosi nostri a Carrara, e poi ce n'erano due o trecento fuori dallo stadio. Quest'anno ci troviamo a giocarci la salvezza in una situazione sempre simile, però pazienza, c'è di peggio nella vita, per cui cerchiamo di salvarci con quello che passa al convento e bisogna salvarsi con questo. Benedetti, il tuo gol poteva essere quello della vittoria, poi questo incredibile finale? Purtroppo è andata così, eravamo riusciti a fare il 2-1 e poi invece siamo stati fregati all'ultimo minuti, ci hanno fregato. Ti racconto un po' questo incredibile finale, degli errori difensivi vi sono costati carissimi. Capita, quando un attaccante sbaglia un gol a volte si perde una partita e quando un difensore sbaglia si prende il gol, quello non c'è nessun problema. Manucci ha salvato tante volte le partite, un errore suo ci è costato la sconfitta. La situazione si complica un po' perché con la vittoria potevate restare fuori dalla zona play-out e adesso ci siete dentro. Eh sì, ma quello bisogna lottare sempre fino all'ultimo, fino all'ultima partita nulla è deciso, noi siamo tranquilli. Per quanto ti riguarda era tanto tempo che non giocavi, sei tornato in campo, ti sei procurato il rigore e l'hai trasformato. Sì, sono stato fortunato a procurarmi il rigore e poi l'ho trasformato e sono contento.